Buongiorno ragazzi! Buongiorno professore! Sono il vostro insegnante di italiano. Mi chiamo Angelo Bianchi. E tu, come ti chiami? Mi chiamo Francesca De Giuli. Sono nuova in questo liceo. Bravo! E tu, come ti chiami? Mi chiamo Giorgio Amato. Anch'io sono allievo. Abito qui vicino. Bene. Vediamo adesso gli altri. Siete tutti presenti? No, professore. Sono Assanti, Renato e Catrina. Rientrano domani. Va bene. Ora cominciamo la prima lezione di italiano.